Rosanna Pucciarelli, Accademia delle Belle Arti, lei anche fa parte della commissione giudicatrice, esaminatrice degli elaborati dei ragazzi, perché non parliamo soltanto del certamen, ma anche di un concorso che riprodurrà graficamente, usando naturalmente della nuova tecnologia, la figura di Giuseppe Di Vagno. Come hanno raccontato i ragazzi Giuseppe Di Vagno? L'hanno raccontata in modi differenti, con grande creatività, utilizzando tutte le tecniche. Noi siamo all'analisi dei loro elaborati, che sono arrivati a noi da poco, e con il professor Teofilo, che è direttore anche del Museo Pino Pascali, e nostro collega in Accademia, stiamo valutando le migliori opere. Devo dire che i ragazzi ci hanno sorpreso, perché la creatività ha lasciato spazio del resto. Chi si occupa di Di Vagno e studia la storia di Di Vagno non può che essere anche un creativo. Quindi siamo in sintonia con tutto quello che è accaduto dal punto di vista del letterario e dal punto di vista artistico. Si sono unite le due competenze, ed è venuto fuori un discorso veramente poetico e analitico sulla personalità di Di Vagno. Siamo estremamente soddisfatti dei risultati. Quindi personalità, non soltanto la figura di Di Vagno, ma anche tutto quello che girava attorno a Di Vagno. Loro hanno respirato bene l'ambiente, cioè quello che è stato l'imprinting culturale di quel periodo storico. E lo hanno rappresentato graficamente, ma poi vedrete, non vogliamo svelare tutte le peculiarità di questo concorso, vedrete le opere, sono veramente molto interessanti.